Ogni tanto qualcuno mi chiede, ma se tu non avessi fatto l'attrice, cosa avresti fatto nella vita? Credo che non sarei stata in grado di fare altro. Ho iniziato presto, era quindi un momento in cui durante l'adolescenza non sai bene quello che vuoi. E invece stranamente a 15 anni ho capito che stare sul set, ho capito che recitare, era l'unico modo per stare in pace con me stessa. Questo mi dicono, si chiama talento. Ho avuto la fortuna di scoprire il mio e anche di riuscire a farlo diventare il mio mestiere. Tante esperienze, tanti film, fiction, e nel frattempo crescevo e cresceva anche la mia consapevolezza. Negli anni chiaramente sono diventata una donna, sono diventata per fortuna anche una mamma, e questo forse è stato poi il momento in cui ho capito di voler realmente fare questo lavoro, perché amo mio figlio più della mia vita, ma ho capito che una mamma realizzata è sicuramente una mamma più felice. Perché poi le donne si sa, insomma, sono delle forze della natura, diciamolo. Riusciamo a fare veramente tante cose. Probabilmente se ci fermassimo ci sentiremmo perse. Noi più cose facciamo, meglio riusciamo. E mi fa divertire molto l'idea di raccontare una donna oltre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.